salve e bene amici fratelli della congrega questo diciamo tono colloquiale e confidenziale vi confido che quello che vi raccontai poco tempo addietro corrisponde coincide perfettamente esattamente la verità più assoluta perché non mento mai miei mentitori che voleste e volete ancora farmi da mentore capelli belle capelli vi consiglio un toupet da cesare ragazzi miei boys perché altrimenti non piacerete alle girls allora tornando indietro nella memoria ecco colui che incontrai nel video incriminato e questo è un allenatore di calcio come il mio passato in cui scarmigliato no scatenato scalciato in maniera frenetica o serie dire deliziosa infilando le palle sotto l'incrocio dei peli l'allenatore nel pallone ci vuole una dizione la cadenza all'allino banfi lino banfianesca uomini questo sono io uomini che voleste turlupinare deturpare sotto scritto derubandogli l'anima e deprimandolo del suo savoir faire visto affinché stabilisse profondamente si deprimesse uomini lionel messi ieri ha sbagliato il rigore andate messi 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 a 90 dicevo per un rinfoltimento non del bulbo ma del nostro cuore rivolgetevi al commissario offalo un uomo che vi rincuora e afferra voi e le palle no le sigarette e le infila nel taschino scusate operazione delicata ci vuole una mano chirurgica voi che tremate adesso dinanzi a questa forza portentosa di un falotico in passato pensieroso spesso imbranato giamai fantoziano o se ne dire soltanto bullizzato anacquato ma la sua mente non è ancora ubriaca non è stata astordita da voi che non suggestionerete più nessuno voi che andate illuminati da me folgorati sto cercando le sigarette scusate dove le ho messe avevo aperto il pacchetto scusate infilate qui ma vedete sono smemorato in effetti avete ragione sono affetto e afflitto da gravi turbe psichiche e da malattie mentali incurabili allora uomini curatevi di voi non trascuratevi e già mai me oscurate oscurantisti uomini da mentalità medievalistiche vediamo un po sistemiamo qua uomini siete sistemati vi siete a questa società omologati appiattiti a livella di totò dicevo che bella c'era c'era una volta un uomo che scomparve si perse nei meandri e negli anfratti della sua stessa tetragine avvenuta per colpa di eventi nefasti ma ora dopo tanti accadimenti funesti quest'uomo ben si veste e della sua energia vi investe uomini e donne ragazzi e ragazze figli di genitori che vollero circuirvi e circoscrivervi all'interno di planimetrie potremmo dire ora vi siete dati dopo questi dettami genitoriali falsi sbagliati ferisei ad appalti edilizi abusivi e voleste abusare di me ma di mio questo è un libro edito da corbaccio trovate i miei libri anche su libraccio io alleno le braccia perché sono un uomo di bicipiti quando giochai da calciatore anche di quadricipiti uomini in verità questo è un uomo sbaliziato dal gene ancora inaudito e voglio leggervi un estratto miratti naturalmente estrapolato tratto il dado e tratto da quest'opus esagerato opus va accorato accordato al maschile uomini dall'indole femminile uomini effeminati uomini sottoposti uomini delinquenti uomini indagherà la fbi federal bureau of investigation oppure il falò di deduttiva detection compirà un'opera di introspection si un'opera introspettiva per abbiare le vostre limitate prospettive chiaro si è spenta la sigaretta io non aspiro a diventare premio nobel sto aspirando la sigaretta e quando scrissi questo libro fui molto ispirato allora voglio leggervi una parte che non ha niente a che vedere sono stata al dentista con questo giallo che mi dende i gialliti voglio compiere una pulizia mentale alle vostre teste di cazzo perché io ho già compiuto la pulizia dentale e chi era da me riceverete sdentate allora fatto sta che il sottoscrittor vi dice rivela che ha sempre reputato la paltrow winett paltrow una gran joker presente in seven è sorca non solo da contemplare ma su cui piacevolmente toccarsi i miei uomini toccati qui nel cervello lasciandosi completamente andare reputandolo con tempo una sorta o perché sorca di raffinata versione statunitese and elitera mi e letterati totò pepino la malafemmina scende la lettera no è più contemporanea di niente popò di me popò di meno non ci vuole l'accento su totò sì che gloria guida una dallo stupendo a po qui ci vuole cosa se avete letto bene mi riferisco all'attrice cult e dal bellissimo sebbene meno scultore sodo e portendossi nato cassini che nei seventis negli anni 70 in berversò divenendo l'oggetto sessuale delle maggiori erotiche fantasie maschili di quei tempi più ridicoli pecorecci più sporchi un filmaggio con lei stessa protagonista secondo la generalista non protagonista però da molti malvista enciclopedia e lì perde la vista e bisogno dell'oculista online wikipedia ecco chi è la guida una donna all'epoca molto in vista anzi che accicava lo sguardo e dopo averla solamente intravista bisognavi dell'oculista vedete non mi ricordo neanche quello che scrisse ma gloria guida adesso ci vuole una guida dizionaristica una lettura diciamo enciclopediche a modi enciclopedia insomma gloria guida merano 19 novembre 1955 un'attrice conduttrice televisiva ed ex modella italiana sposata con giorni d'orelli sposata con giorni d'orelli dal 1991 anno più anno 90 no anche se la relazione iniziata nel 69 il mio anno anno di nascita e dal quale ha una figlia la guida è tra le principali interpreti delle comedie sexual italiana degli anni 70 non che negli anni non c'è non che di altri film prevalentemente a fondo spostos fondamento tutto il giorno speroni c'è quell'attrice l'icino lentini poi c'era quel calciatore non è un genere avanti del torino spostos lenti siete lenti eh superfluo che io questi fii per modo di dire film filmacci di bassa di bassa lega per molte un anise se è virile masturbazione ai os ve li stia in numerare singolarmente elengarveli uno per uno stiamo scherzando stiamo pazziando veramente ue informatevi siete ignoranti informatevi come diceva totò sono fra l'altro anzi infatti come appena accennato i pellicoli qualitativamente inguardabili ma furono molto amati ci eravamo tanto amati voi dovete tornare detto le scuole non a scuola e guardate da molti guardoni molto volpone io lino benvio ho recitetto in scuola di letri diciamo frecchia la belbumena con paolo villeggio però non nel volpone in quel film c'è enrico mondeseno c'è quella scena con ciocci qui ci vuole enrico maria salerno un doppiatore di quinte di studi qualche dolore in più presente esposo con un cornifichetto quella scena cioè i quali sarapeno non poco si da gran bocci anzi alle forme graziosi loro no loro sono brutti sono sgraziati veramente alle forme graziose e stimolanti della venente gloria e tu guardandola sei sempre più uomo con lei svenevole venendo svene non voglio svenarmi ribadisco tostamente ma non posso gloria era un dubbiamento molto rapante c'è conclamato appieno acclarato nelle fantasie dei maschi osè dire no oso dire qualcosa di caliente speriamo di non bruciare qui di ingenerire il tavolo mie test di legno attestato e psicologicamente certificato uscirà presto il pinocchio non quello di zemeckis condamenx di guilermo del toro è chiaro miei bugiardi secondo me anche un proposito di lino benvi commissario auricchio di frecchia la belbumena non sono frocione non sono frifri sono il commissario ti faccio un culo così quindi occhio malocchio prezzemole pinocchio no fino godettero in quest'ora insomma è un mostro questo il mostro Roberto Benigni veramente tanto di rimpiaccio la dignità della guida delle esposte senza molte inibizioni e molti uomini vennero e a qualcosa di cremoso diciamo pure che molte loro regolazioni avevano senza troppi reali coiti nasconde sì ciò però non c'è un gazz con questo libro di indagini all'insegno della detection più turbide ricordate invece il commissario logato quello lì michel 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 maurizio tra l'altro maurizio ortisi giocava con me che c'entra ci vuole un po' la centro turinismo un c'è di turino no è vasta però sta sigaretta si spegne sempre oh spingere come direbbe in Toscana ci può ciò può essere vero così com'è vero nè nè d'altra parte ho di contrattare che si voglia che qualsiasi uomo italiano anni 70 per lo meno secondo il mio modesto avviso e adesso ci spostiamo a Cologno Mozzese lì Fininvest Mediuset è chiaro sono il commendatore commissario no il cavaliere mascherato aveva i suoi altarini e eh per sposarla o sono il commendatore zampetti di ragazze d'SC sull'altare no pur di giacero a letto con gloria guida sarebbe stata disposta a folie a livello figurato più assurdo di quelle compiute da Don Juan no da Don Giovanni no da John Do quello di Seven celando poi gli scheletri nell'armadio oppure gettando subito in lavatrice le sue butandine inzaccherate di sperma contando di macchioline gli anni 70 rappresentarono una decada assai confusionaria furono annate davvero matte senza molti punti di riferimento ciò va sporcamente no chiaramente detto senza infiggimento donne lo so non fingete voi siete frigide però in Italia gli uomini ebbero almeno un punto fermissimo quello G punto G ovvero il seguente c'è Gloria Guida la G di Gloria e di Guida fu una donna per cui perso la testa forse anche i testicoli si impazzirono per lei oppure sfiorarono l'invermità mentale oltre a quella genitalia sono veramente geniale avete ragione non sragionate so cosa è stato in tale esatto istante pensato di me che sono più matto di Zodiac sono i cavalieri non il cavalier mascherato è lo Zodiac può darsi che abbiate ragione comunque gioca a calcio guarda anche Ole Benji Mila e Shiro due cuori nella palla a volo ma chi se ne frega in fondo delle morali dinanzi a bionde come la Peroni Claudia Peroni bella figa quella adesso un po' ingrassetta grande giornalista quella io modestamente come dice Paolo Villaggi questa è una faccia io modestamente lo dice quello il professore di Bruno Sacchi le ragazze da terza C che dici quella è mia moglie qui nel palio Gloria Guido Sharo Stone di Basic Instinct uomini dagli stiti primordiali senza ovviamente trascurare scurare o censurare le citantissime sopra citate vabbè qui ci stiamo perdendo in puttanate si brinda la vita con dolcezza ed usiasmando con zucchero sugar fornaciare ululando urlando e a squarciagola cantando diavoli me devil in me rimanendo però amareggiate solamente in mano a mo di fan di Gloria Gloria di Umberto Tozzi mariti se siete stati cornuti e maziati mangiate un maritozzo è chiaro? della Guido del ritornello Gloria nell'alto dei cieli ma non c'è pace qua giù dei cieli o degli uccelli? uu ah ah qua stavamo bruciando il commissario è un uomo, scusate, di Allure, di Sauerferra, un uomo agile, un uomo dinamico, brillante, un uomo sorprendente, alla Jean-Claude Van Damme, qui ci vuole un attimo, non spacchiamo tutto, ci vuole una spaccata? In The Wolf of Wall Street c'è quella canzone di Umberto Tozzi, c'è Margot Robbie, invece in C'era una volta a Hollywood c'è sempre Margot Robbie, e in Babylon c'è Margot Robbie, adesso uscirà questo film del regista di Lallaman, Damien Chazelle, quello di Force Man, c'è anche Brad Pitt, cari uomini cornuti, io ne so una più del diavolo che quello alle corne in testa, dicevo, Brad Pitt, avete presente la scena del balletto, The Wolf of Wall Street, no, c'era una volta a Hollywood, c'è anche la scena del balletto, che balla male Leo, no? Una rotonda sul mare, Leonardo Di Caprio è pieno di Caprio, Totò Peppino, De Filippo, no, c'era una volta a Hollywood, si vede anche nel trailer, balla un po' così, ma non sa ballare questo Di Caprio, non sa recitare, e questo Brad Pitt è inutile che faccia il figo, perché incontrerà il vero Bruce Lee che sono io, è chiaro? Quello gli prende le palleglie, c'è tutto, guarda il spezzo la roccia e il capocollo, è chiaro? Oh, oh, che dito, come dice Jerry Calat, in al bar dello sport, no, in bomber, sono come bar, prendiamo una bionda bar, una birra, al bar, al bar, a bari, miei baristi, miei bari, voi barate, ma siete baristi, baristi, grande difensore quello, si mise a piangere, in 1.94 ai mondiali, eh, sbaglio il rigore poi, rigore di Roberto Peccio, il genius, you understand? Io, tutti, se mi fate incazzare, stendo, è chiaro? È chiaro? Ciao, 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 good night, good luck. È chiaro? Uomini? Ombrosi? La teoria dell'ombroso? Fatevi cazzi vostri, non sapete contro chi state giocando. Io filosofeggio come Aristotele. Saluto ma Mammat e Socrates.